Non oggi ma, tra due giorni, il 20 settembre, Belen Rodriguez compie 40 anni. Ma non mi sento vecchia, racconta al Corriere della Sera, ho acquisito consapevolezza, sono più sicura adesso. Il corpo giovane ha pensieri giovani, il corpo maturo ha pensieri maturi. Certo, mi dispiace vedere il corpo che cambia, la gamba che non è tonica come una volta, ma non mi lamento, la genetica mi ha aiutato. Poi c'è la chirurgia estetica. Un aiuto non dà poco per tante donne. Credo che le persone siano libere di fare ciò che ritengono opportuno per sentirsi meglio con se stesse. Nessuno deve permettersi di giudicarle. Intanto rimane una piacevole provocatrice. Mi piace tantissimo, sono una grande provocatrice, a volte anche in modo inconsapevole, altre con una certa dose di premeditazione. L'uso del suo corpo le piace, è un senso di libertà personale. Il resto c'entra poco. A me piace provocare, mi piace mostrarmi, sono egocentrica, altrimenti non farei questo lavoro. Mi piace giocare con la sensualità. Un gioco che fa fin da piccolina, da piccola. La domenica facevamo i pranzi in famiglia e c'era sempre in programma un mio show, una mia coreografia di ballo, i miei fratelli erano gli addetti agli effetti speciali. A fine esibizione mi facevano cadere dall'alto le foglie secche per dare un tocco glamour. Da provocatrice a conduttrice per discovery. Un programma comico, l'altro fatto su misura, amore alla prova. La crisi del settimo anno, anche se Belena il settimo non ci è nemmeno arrivata. Mai. In realtà con Stefano De Martino pur con qualche interruzione il settimo anno l'abbiamo superato. Oggi siamo in buoni rapporti, abbiamo un figlio insieme, non si può non essere civili. È complicato stare insieme, una volta separarsi era motivo di vergogna, oggi si cambia in fretta. Sono stata bene con i fidanzati che ho avuto, ma non è facile quando hai figli da altri uomini. Capisce gli ater che si accaniscono contro di lei, sono pure intelligente, capisco che gli girino, ma non soffre di popolarità. In carriera ci sono stati dei picchi. Il più alto. Sanremo. Il programma che mi rimarrà sempre nel cuore, è il massimo che uno può fare, una platea magnifica. Ci tornerei subito. Da influencer ha guadagnato tanto. La volta, racconta ancora al Corriere della Sera, che l'hanno pagata di più, e ha lavorato di meno, e è stata con Tim, all'epoca della pubblicità con De Sica, mi aveva ricoperto di soldi, erano tanti ma non mi piace dire quanti. Ma la volta che mi è andata meglio è stata quando dovevo fare i post di un jet privato e in cambio volavo gratis dove volevo io. Fantastico! Il miglior cambio merci mai fatto!